rio war series questo posto ovviamente caro a tutti noi giocatori di poker perché io che sono riuscito a vedere perché ho giocato due anni le war series all'orshu ho visto un cambiamento quando sono passate a rio incredibili veramente non vi rendete conto come giocavano i giochi pro all'orshu che seppure era un casino storico bellissimo erano i tavoli erano tutti attaccati le luci erano diverse ogni tavolo invece qua la prima volta che sono arrivato ho visto un'organizzazione totalmente diversa 300 tavoli in una sala sola che poi sono ampliati addirittura avere tre sale mi sembra con 600 tavoli quindi il rio associato alle war series è caro a tutti noi e obiettivamente sono fanno un ottimo lavoro perché è facile parcheggiare ci sono tante opzioni per mangiare quindi i giocatori si trovano bene poi ovviamente braccialetti li ho vinti entrambi qua a rio quindi per me la sala storica che è l'amazon avere vinto due braccialetti lì ogni volta che entro è ovvio che mi vengano un po i brividi e la sento un po mio quindi come se fosse la mia seconda casa ciao